Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Ci spostiamo sulla FIPILI dove per lavori ci sono due chilometri di coda in diminuzione tra Ponte dell'Est e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco in direzione Mare. In direzione Firenze, rallentamenti tra la Strassegna e Firenze e Scandicci. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Ricordiamo che è obbligatoria la dotazione invernale a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!